Ciao, l'argomento di oggi riguarda le immagini animate, quindi la creazione di piccoli video in cui sarai tu a decidere quali sono gli elementi e come devono muoversi. Per prima cosa andiamo su video e scegliamo un progetto nuovo. Scegliamo una foto che diventerà lo sfondo e la allarghiamo fino a che non copre tutta la nostra lavagna. Ecco qui. E poi tra gli elementi vado a cercare una balena e scelgo questa. Benissimo. Qual è lo scopo di questo lavoro? Lo scopo di questo lavoro è far comparire la balena come se uscisse dall'acqua, farle fare il salto di questo poverino sul canotto e poi farla rientrare in acqua. Oltre a imparare ad animare delle immagini, grazie al lavoro di oggi imparerai anche qualche trucchetto in più per gestire la posizione delle immagini. Allora, una volta decisa quale sarà la dimensione della nostra balena, tu vedi che se io metto la balena qui e faccio partire la mia animazione da questo punto, si vede subito però che la balena è sovrapposta al mare, non sembra uscire dal mare. Per fingere che la balena esca dall'acqua ritaglio l'immagine tenendo solo la parte che emergerà dal mare. Quindi seleziono, scelgo taglia, prendo le manigliette e mi fermo qui. Se io do fine, io vedrò solo questa parte di balena, questa non la vedrò più. Tagliato un po' troppo. Nessun problema, io rifaccio taglia, vedi che lui mi ridà la figura completa e soprattutto mi dà la possibilità, ecco qui, di correggere il mio errore. Bene, l'impressione è molto diversa, vedi? L'impressione è che questa balena stia uscendo dall'acqua. Anzi, io per aumentare questa impressione potrei aggiungere delle goccioline. Vado su elementi, scrivo gocce d'acqua e vado a cercare delle goccine che potrebbero essere utili. Naturalmente devo sempre stare attento a scegliere le gocce che non abbiano, vedi, questo simbolo. Direi che questa va benissimo. Ovviamente è troppo grande, la riduco, la metto qui e poi gli dico animazione. respiro. A posto. Vediamo un'anteprima. Bene, si vede il pezzettino dell'acqua. Ok. Da adesso in poi stai molto attento perché il lavoro è semplice, se vogliamo un pochino noioso e richiede molta precisione, però poi il risultato è davvero sorprendente. Allora, che cosa devo fare? Io devo far muovere la balena. Per prima cosa vado qui e gli dico duplica la pagina. La pagina deve essere duplicata così com'è perché non ci devono essere differenze, cioè io non posso rischiare di spostare qualche elemento in modo sbagliato. Nella seconda pagina, cioè in quella che ho duplicato, io prendo la mia balena e la faccio spostare un pochino più in su. Ovviamente, adesso che la balena esce dall'acqua, io dovrò ripristinare la sua grandezza, quindi dovrò farla vedere magari così. Vedi che sembra essere uscita un pochino dall'acqua e magari gli do anche un pochino. Questo lo faccio sparire nella seconda pagina perché lo schizzo d'acqua non ce lo dobbiamo avere più. Benissimo, torno qui sulla seconda pagina e gli dico duplica. Nella terza pagina io farò emergere completamente la mia balena, quindi a questo punto ripristino tutta la mia immagine perché la balena è fuori dall'acqua, la giro ancora un pochino più così e proseguo questo lavoro. Vado sulla pagina 3, duplica pagina. Adesso io devo fare questo movimento, quindi mi alzerò un pochino, duplica pagina, poi mi muovo ancora un po' e duplico la pagina. Stai molto attento sempre a duplicare la pagina e non a duplicare l'immagine, sennò viene fuori un pasticcio. Poi la muovo ancora un po', duplica pagina e vado avanti così fino a che non avrò completato il giro. Arrivati a questo punto, vedi che io ho anche cambiato un pochino la direzione perché devo far capire che la balena sta entrando nell'acqua. Arrivati a questo punto, io adesso utilizzo lo stesso sistema che ho utilizzato prima per far finta che la balena entri nell'acqua. Facciamola scendere ancora un pochino. Ecco qua, questo è il punto in cui entra nell'acqua. Allora io faccio taglia, seleziono, taglia e comincio a tagliare un pezzettino. metto a questo punto la balena in verticale, taglio un altro pezzetto, poi un altro pezzetto. Ok, ultimo. A questo punto la mia balena è praticamente nell'acqua e anche qui però dovrò mettere degli spruzzi perché sta entrando nell'acqua. Potrei mettere questo ad esempio, lo metto qua sul punto in cui entra e poi potrei mettere, guarda quanti ce ne sono qui, ecco potrei mettere questo dall'altra parte per far vedere gli spruzzi. Bene, hai visto che noi qui abbiamo fatto 22 pagine, sembrano tante. Vedrai che in realtà non lo sono. In che senso non lo sono? Perché essendo un'animazione più le pagine sono tante, quindi più i movimenti sono piccoli. più il movimento generale sembrerà vero sembrerà vero sembrerà naturale. Meno pagine metti più l'oggetto si muoverà a scatti. Quindi se vuoi fare un lavoro di qualità dovrai spenderci un pochino di tempo. L'ultima cosa che devi fare è cambiare, mettiamoci sulla prima, cambiare il tempo. Cinque secondi sono troppi. Devi mettere il minimo, il minimo indispensabile. E poi gli devi dire applica a tutte le pagine. Vedi che si sono accorciate e qui sotto tutte hanno lo stesso tempo. Vediamo l'anteprima? Hai visto? Rifacciamo. Il risultato è un piccolo video in cui tu puoi far muovere qualsiasi cosa. Io ho scelto volutamente una foto reale, perché questa è una foto della realtà e un disegno, quindi qualcosa di assolutamente fasullo, per farti vedere che puoi lavorare veramente con qualsiasi elemento. Una volta che hai terminato l'animazione, puoi ovviamente renderla più efficace scegliendo un file audio che possa andare bene per la situazione. Quindi vai su audio, puoi scegliere qui nell'elenco delle categorie Suspense, ad esempio, questa direi che va bene, clicchiamo, controlliamo, vedi che comprenda tutto il nostro video, perfetto, modifichiamo come abbiamo imparato a fare l'inizio, così parte gradatamente, e facciamo anche ridurre gradatamente la fine. Andiamo a controllare, ecco, vedi che... Se abbiamo messo un po' troppo... Ok, così va bene. Abbiamo sistemato, è tutto a posto, andiamo a vedere l'anteprima. Vabbè, diciamo che la musica poteva essere qualcosa di meglio, però è una cosa che puoi sistemare. Adesso condividi, scarica, ovviamente file mp4 perché in realtà tu hai fatto un video, anzi, mettiamo il titolo, balena, condividi, scarica, video mp4, tutte le pagine, ovvio, scarica. Diamogli un attimo di tempo. Ecco fatto, il video come sempre lo recuperi all'interno dei download, eccolo qua, balena, apriamolo e vediamo il risultato. Direi perfetto. Spero che questo tutorial ti sia piaciuto. È un'occasione carina perché puoi veramente animare qualsiasi cosa. Con questo ti saluto e spero di ritrovarti al prossimo tutorial. Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro! Grazie a tutti